Andiamo, trasferiamoci, domenica in una chiesetta metodista o battista di fine ottocento del sud degli Stati Uniti, questo brano dice quando senti la chiamata del Signore ti devi muovere, è proprio o meno così. Musica 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 E' un'altra volta che ti metti per la tua vita E' un'altra volta che ti metti Grazie a tutti. 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 Yeah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah! 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 T'ammazzo! Yeah! 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 Il segnale è il colpo di Anka Adesso lo finisco Grazie mille Grazie mille